Presidente, il CdA della Saga torna da 3 a 5 membri, per quale motivo? Per avere maggiore operatività? Intanto per mettere più Abruzzo all'interno della governance di Saga. Posso annunciare per esempio che nel Consiglio di Amministrazione entrerà anche l'ingegnere Schirato che conosce la collocazione turistica dell'Abruzzo e attraverso questo faciliterà anche il rafforzamento della copertura organizzativa e finanziaria della connettività attraverso il cielo dell'Abruzzo. Gli altri nomi sono tutti confermati? Assolutamente sì e io esprimo un grande riconoscimento per il lavoro che ha fatto il professor Mattoscio con Antonello Ricci, il management principale e anche Antonello Allegrino. Chi è l'altro nome che entrerà Presidente? Stiamo definendo proprio in questi momenti con il professor Mattoscio rispetto ad alcuni curriculum che stiamo valutando. Quello che posso anticipare è che sarà comunque un imprenditore. Noi vogliamo mettere più Abruzzo da questo punto di vista all'interno della governance di Saga. C'è la grande questione Ryanair, il 15 è previsto l'incontro col management aziendale, lei cosa spera? Io sono fiducioso anche perché sta pervenendo a maturità anche la consapevolezza italiana ed europea circa la dotazione normativa che occorre per mantenere in vita e in potenza i cosiddetti aeroporti minori, quelli che sono regionali di provenienza ma internazionali sul piano dei collegamenti. Gli aeroporti che non superano i 700.000 passeggeri e questo è uno di quegli aeroporti. Su 840 aeroporti europei ce ne sono circa il 40% che ha questo livello di difficoltà e su questo fronte l'Europa sta riconcependo le norme di riferimento. Per quanto riguarda Saga, Presidente, l'anno si chiude con un leggero attivo, però i problemi sul tappeto sono ancora tanti. Ma noi abbiamo una gestione pregressa che deve essere ancora tematizzata, sottoposta a razionalizzazione e ci stiamo mettendo tutte le energie. Il professor Mattoscio è conosciuto per il suo rigore, la sua puntualità. Voglio anche mettere in evidenza che questo Consiglio di amministrazione è all'insegna del tutto gratuito e lo voglio ripetere tutto gratuito, anche questa è un'idea di università che mi convince quando una competenza dell'Accademia dona la sua competenza per fare buon governo. Per quanto riguarda il futuro sono convinto che arriveremo ad un punto in cui ci sarà l'autosostentamento finanziario. Non è domani, non è dopodomani, ma di qui ad un lasso di tempo di tre anni.